buongiorno a tutti allora proseguiamo con le notiziole del gigione che il gigione trova sul web quindi ci sono tre queste tre notizie curiose e anche tristi purtroppo perché ultimamente notizie divertenti non ce ne sono ahimè comunque c'è una decisione importante perché è una sentenza destinata a fare giurisprudenza un pedone che ha provocato la morte di un motociclista è stato condannato in primo grado quindi poi ci sarà secondo grado l'appello tutto per omicidio colposo il giudice alessandra martinelli ha combinato una pena di un anno e otto mesi di detenzione a un tren del gambia per aver causato l'incidente in cui il 18 dicembre 2015 come vedete in italia i processi durano all'infinito ha perso la vita nicola coltelli di anni 17 il ragazzo stava percorrendo in moto via ballelunga a ponte lago scuro provincia di ferrara di notte e investì bubacara toncara che camminava sul ciglio della strada assieme a un amico coltelli perse il controllo del veicolo e finì contro il guarrain restando ucciso sul colpo la motivazione della sentenza che tra l'altro è devo dire molto dura è che bubacar camminava nel senso di marcia della moto mentre sarebbe dovuto essere dall'altro lato della strada secondo quanto previsto dal codice appunto della strada stessa il giudice ha assegnato anche una provvisionale di 100 mila euro a ciascuno dei due genitori come risarcimento l'avvocato di parte civile la vigna cantia aveva sottolineato la negligenza del pedone il pubblico ministero alessandro rossetti aveva chiesto una pena di un anno e sei mesi la condenna è stata di due mesi in più il difensore marco cipolla aveva escluso qualsiasi responsabilità del ragazzo del gambia attualmente ospite di una comunità per migranti che si trova nelle vicinanze del luogo dell'incidente e ha annunciato che ricorrerà in appello a parte il fatto che questo allora l'incidente è dicembre 18 dicembre 2015 queste quattro anni che in italia non hanno ancora deciso se deve avere o meno la il permesso di soggiorno eccetera vabbè sorvogliamo andiamo a una notizia curiosa che però non è tanto carina perché una testugine africana con un cestino di viveni incollato sul carapace per raccogliere le offerte queste tristi immagini arrivano dallo zoo di naning nella capitale della provincia del guanxi in cina e sapete che in cina con gli animali ne fanno di ogni dove i gestori hanno deciso di far cassa trasformando una delle loro attrazioni in una mendicante il cestino sul guscio della tartaruga di terra è stato incollato grossolanamente con del materiale bianco e dalla cesta svetta anche la bandiera nazionale cinese una trovata per conquistare i cuori di grandi e piccoli e convincerli a mettere mano al portafogli non tanto per donare soldi ma per far canestro sulla povera malcapitata muovendosi nel suo recinto la tartaruga è diventato un tiro al bersaglio invitando i vegetatori a far centro sulla sua schiena con le monetine e se non ce la fanno poco importa non curanti del fatto che l'animale potrebbe essere colpito nelle parti non corazzate o anche scambiare i soldi per cibo tradizione cinese vuole che far centro con una moneta porti fortuna e allontana e allontani gli spiriti maligni ma le fotografie in questione hanno fatto così scalpore da richiamare l'interesse della polizia postale cinese e del national forestry bureau che stanno indagando sull'accaduto e speriamo gli facciano almeno una bella multa così i soldi che hanno preso li tirano fuori questa invece una notizia triste ma bella triste e bella triste e bella bella e triste come preferite fedeltà e amore un rapporto uomo animale che solo la morte poteva interrompere o forse rendere infinito difficile pensare a parole diverse per descrivere la triste storia di nero un bulldog francese morto 15 minuti dopo il decesso del suo proprietario stuart hutchinson stuart hutchinson combatteva contro un cancro dal 2011 il 25enne si è sottoposto a cicli di chemioterapia e a un intervento chirurgico otto anni di battaglia fino al giugno scorso quando i medici danno una diagnosi senza speranze il suo cancro si era diffuso in gran parte del cervello nelle ossa e al bacino non c'erano più speranze e hutchinson decise di trasferirsi a casa di sua madre per vivere con i suoi affetti le sue ultime settimane di vita durante questo periodo la moglie daniel trascorre il suo tempo divisa tra le due case quella coniugale condivisa con il marito e quella dei suoceri il giorno del decesso il padre di daniel va nella loro casa per recuperare gli occhiali della figlia e lì si accorge che il cane nero stava male lo abbiamo portato dal veterinario gli hanno diagnosticato la rottura della colonna vertebrale ma prima era perfettamente in salute ha detto al mirror fiona conagan la moglie la madre di hutchinson stewart è morto verso le 15 le 13 e 15 di quel giorno e nero alle circa 15 minuti dopo aggiunge la donna è morto anche lui aveva tre cani ma lui e nero erano come un'unica cosa mentre ormai la morte di hutchinson era un evento tristemente atteso il decesso anche di nero è stato uno shock e un trauma che ha reso la situazione ancora più tragica tre notizie come vi dicevo non tanto belle però erano le notizie che sono spuntate nella scorsa settimana purtroppo oggi che è sabato ne è arrivata un'altra ma ne parleremo poi nei prossimi video che farò per ora vi saluto vi ringrazio e ci vediamo naturalmente lunedì sera vi ricordo sempre l'appuntamento con la diretta live col gigione tra le 21 e 30 e le 22 si comincia poi andiamo a ruota libera e quindi niente io vi saluto nuovamente ci vediamo alla prossima ciao